Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, spero che questa serie seppur vecchiotta vi stia piacendo, mi raccomando mettete sempre un bel pollice in su e andiamo avanti, perché abbiamo conoscito la nostra fantastica Capitan Marvel, parliamoci vai! Mentre informo lo shield del mio incontro, segui quel gruppo di giganti di ghiaccio. Ammazza, ma sono tutti giganti di ghiaccio. Questo rivelerà cosa progetta Loki. Ok, andiamo a seguire, caccia al movente, perché paletta? Sì, è proprio questa la missione, vai! Nooo, vai da questa parte, attenzione, magari cerchiamo di adivarci, ah ci dobbiamo arrivare da quella zona là, vai così, scendi in picchiata. Oh! Ok, li ho visti, eh. Eccoli qua. Tassi! Iniziamo subito a lanciare un po' di macchine, eh ragazzi. Faccio un po' di strada così, eh. Oh, attenzione. Però così magari non rompiamo anche... È legale rompere la cassetta delle poste. Ok. Ragazzi, siamo diventati abbastanza potenti. Oh, cazzo. Perca miseria ragazzi, è abbastanza grande il signore là. Aspetta, io facciamo così, non sto scappando, eh. Giuro che non sto scappando. Mi prendo un po' di energia. E nel frattempo... Scusi signora, si sposti da quell'altra parte. Lanciamo la prima, ma... Perché lanci sempre male? Sempre male lanci. Ecco, ecco. Molto carino un paio di... Ma ci ha messo 20 minuti per alzarsi Iron Man, eh. Ah! E l'abbiamo già ammazzato. Avete visto? È bastato pochissimo. Ok. No, vabbè. La macchina la lasciavo di nuovo. Scusate. Eh, scusatemi. Ok. Meno male che siamo riusciti a farlo fuori, eh. Vai dall'altra parte, Iron Man. Dai, scazza. Attenzione, attenzione, Iron Man. Abbiamo ancora poca dimestichezza che non la guida, eh. Attenzione. Posizioniamoci di nuovo. Vai. Ok. Eh, tipo la macchina della polizia non sarebbe una cattiva idea, se magari... Ma io vorrei anche. Il problema è che sono grossi, eh. Sono grossi. Attenzione da quell'altra parte. Attenzione da quell'altra parte. Che vuole questo? Questo è grosso. Alle spalle, alle spalle. Vai, Romano, vai. Stangati. Ok. Attenzione, attenzione. Non lo fare incacchiare, non lo fare incacchiare. Ce ne mancano altri due. Eh, mi scusate. C'è Suaro, ma ti sei blocchiato. Allora, ci freghiamo un attimo la macchina, eh. Mi scusatemi. Ok. Ecco qua. Ah, pensavo che riuscissimo a ammazzare. Invece... Blocchiamo, ci sta il tizio di prima. Facciamo così. Ci freghiamo un pochettino di monete e poi magari facciamo come prima. E poi lo distruggiamo alla grande. Il fine è affatto. Non lo vedo più. Iron Man, ti devi spostare da questa parte. Ecco, ora ci mettiamo 20 minuti per alzarti. Ecco, così dovresti morire subito. Ah, non è morto. Spostati, Iron Man. Spostati. Attenzione. Allora, beccati un po' di tassi. Oh, cavolo. Oh, cavolo. Vabbè, però se ci uscite pure le macchine per lo mezzo. Ah, gli abbiamo tolto la protezione. Alla, in spalle. Vai così, vai così, vai. Allora, quell'altra parte lo dovresti beccare. È morto, è morto. Calmo, calmo, calmo. Ok. Dove stai? All'altra parte ce la facciamo. Vai, vai, vai. Ci sono, eh? Oh, che c'è qua? Lo sai? Ancora. Ragazzi, ma che cacchino? Sì. Porca misera, come cavolo è cacchiato. Oh, spostati, spostati. Siamo riusciti a farne fuori soltanto uno. Ecco, magari se ti spostassi un po' non sarebbe male. Oh, cavolo. Eh, lo so, me ne sono accorto, eh. Mi hanno anche di brutto. Iron Man ci mette 20 minuti per alzarsi. Appena riesco a caricare un po' il caricatore qua. Vieni qua, vieni. Tu che sei piccolino. Spostati, spostati, spostati. Ancora non ce l'ho al massimo. Ma qua è un po' che... Vita si carica sto coso. Altre perciò. Porca di quella! Aspetta, aspetta, aspetta. Polizia! Bellissimo, che mira. Che mira, ragazzi, che mira. Attenzione, da quest'altra parte. Non è di questo. Ok. Eh, mi sa che adesso sei morto, eh. Perfetto. Ma non ho capito, c'erano delle bombe là. Scopri il luogo dove si uniscono i giganti, gliacce. Ah, c'hanno anche un posto di riprovo, ok. Facciamo così, ci invecchiamo anche questo. Sì. Sì, ok. Oh, cavolo. Allora. Terminato. Un magazzino abbandonato? Non era ciò che mi aspettavo. Segui all'interno quei giganti di ghiaccio e vedi cosa hanno in mente. Ok. Le registrazioni dimostrano che questo magazzino è abbandonato. Come puoi vedere, non è così. Ah. Quindi, stiamo tranquilli qua dentro. Che c'è? Loki presuntuso. Nuova missione. Ah, ok. Abbiamo fatto quindi già nuova missione. Oh, cavolo. Attenzione. Ne ho visto passare uno qua. Ah, rompio. Ti do un consiglio. Magari fai meno rumore. Così magari non ti scoprono, eh. Ok. Che fai? Non ce la fai alzare? I droni di sicurezza sono fuori posto. Questa sicuramente succederà. Aia. Ok. Iniziamo subito. Ammazza come sparano. Allora, iniziamo subito a farci del male fisico. Mi prende anche un po' l'energia. Magari. Ah, ma siete soltanto voi, ragazzi. Che c'è qua dentro? Perfetto. Ci becchiamo tutto così. Ci portiamo tutto al massimo. Che dobbiamo fare? Dobbiamo costruire... No. Ah, che costruire? Deformazione Professionale Convigo. Ok, rompo qua. E rompo qua. Perfetto, via libera. Becchiamoci tutto e andiamo avanti. I sensori indicano che il posto è pieno di giganti di ghiaccio. Procedi con cautela. Ah, dobbiamo procedere con cautela. Chi è questa cautela? Ok. Di qua non c'è niente. Perfetto. Anche di qua. Neanche di qua. Ok. Andiamo da quest'altra parte. Che c'è qua? Eh, telecamere? Ci abbiamo anche il caricatore abbastanza alto, eh. Quindi diciamo che potremmo anche già fare così. Ragazzi siete morti tutti, eh. Cioè non voglio dire praticamente niente. Chi è che ci ha scansato qua? Chi è che sta sparando? Chi è che sta sparando? Oh, cavolo. Ah, aspetta, 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 che ci sta qualcosa qua su. Iron Man, eh, c'è qualcosa che sta sparando qua. Che sono sti cosi qua? Attenzione, attenzione, attenzione. Magari cerchiamo di fregarli così da quest'altra parte. Forse dobbiamo rompere qualche altra cosa, eh. Che è sto cosa che sta continuando a sparare. Questo spara ancora. O forse devo sparare a qualche altra cosa. Ecco perché continuo a sparare. Aspetta un po'. Roppiamo anche quest'altra parte qua. Ecco un po'. Così carichiamo un po' di energia. Così vediamo un po'. Sto sparando un po' dappertutto. Se riusciamo... Ok, continua a spararci. Si sto passando. Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo un po' se così riusciamo a farlo fuori. Aspetta, Iron Man. Aspetta. A quanto sta come energia questo? No, 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 no. Non ti far fregare, Iron Man. Iron Man non ti far fregare. Aspetta, però là ci vedo qualche cosa. Secondo me dovremmo colpire... Questa cosa qua, vuoi dire? Ok, mi sa che così l'abbiamo rotto, eh. Perfetto. Spariamo anche a quest'altro. Via libera. Ci becchiamo il caricatore. Aspetta un attimo. Vai, vai, Iron Man. Vai un po' più su, Iron Man. Iron Man un po' più su. Ecco, bravo. A volte si è un po' impedito, Iron Man. Vai da questa parte. Ah, sul serio? Oh, vedo un po' troppa energia. Ok, là c'è già qualcosa che dobbiamo sparare. Eh, che cavolo. Eh, che cavolo. Allora, questo lo facciamo fuori. Chissà qua, chissà questa parte. Guarda, appena riesco a portare avanti il caricatore. Aspetta, 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 aspetta. Vediamo che ci siamo a sparare. Questo l'abbiamo fregato. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta. Ok, questo l'abbiamo fregato. Vieni qua, vieni. Vieni, amico, vieni. Ok, ci prendiamo un po' di energia perché ci può sempre servire. Allora, da quest'altra parte siamo obbligati. Attenzione qua, Iron Man. Bravo, Iron Man. Bel saltino. Ah, dobbiamo fare tipo corsa ostacoli. Ci becchiamo un po' di tutto. Perfetto. Aspetta, eh. Ok. Oh, fantastico. Ce la fai ad alzarti? Ok, ce la fai, ce la fai. Abbiamo fatto la nostra bella figura di merda. Ok. No, questi non si muovono. Oh, cavolo. Aspetta un po'. Ok, ce la facciamo, vai. Questo dovresti romperlo, eh. Viola. Ah, ok. Dobbiamo cercare di... Eppentele. Dobbiamo cercare il rifugio protetto. Allora, l'energia ce l'ho già al massimo, capirai? Questo lo rompiamo. Qua ci siamo già stati, credo, sì, infatti. Quindi risalgo da questa parte, ok. Andiamo. Ehi, allora, iniziamo subito. Ok, vai, spara. Ok. E' fantastico, però. Cominciamo praticamente a far fuori una marea di gente. Se riuscissi a beccare... Ecco qua, becca questa, becca questa. Questa, 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 vai. Ma non credo proprio. Ok, perfetto. Vecchiamoci il costo dell'energia qua. Questo lo rompiamo. Questo lo dobbiamo rompere. Ma anche no. Perché non riusciamo a passare all'altra parte? Aspetta un attimo. Dobbiamo fare per forza il percorso di là. Oh, che meraviglia. Mi sa proprio di sì perché da qua non c'è un tubo. Ok. Noi siamo venuti di là, quindi dobbiamo fare per forza questa strada. Ok, fantastico. Qui siamo andati abbastanza male. Oh, che c***o. Ce l'abbiamo fatta, vai. Ok. Aia. Aia. Oh. Aspetta. C'ho un po' paura, eh. Ok, ce l'abbiamo fatta, vai. Spicchiamoci questo. Che c'è qua? Ah, premi per arrampicarti. Premi per arrampicarti. Premi per arrampicarti. Che c'è Iron Man? Ah, ecco. Lo vediamo un po' impacciato. Violiamo anche questo. Perfetto, bravo. Ma sei calmo Iron Man? Non ti cacchiare. Ok, quindi via libera ce l'abbiamo fatta. C'è un rifugio protetto da qualche parte vicino a dove ti trovi. Trovarlo è la tua priorità. Ok. Nel frattempo ammazziamo un po' di gente. Fantastico, questa potenza. Però magari, ecco. Ecco, spostati un po' di qua. Eh, Iron Man è meglio. Perché vedo che c'è un po' di gente che ha chiuso da questa parte. Magari, spostiamoci anche da quest'altra parte. Vai pure in questo. E vai. Ragazzi, ragazzi. Non avete proprio... Avete visto? Dai qua. Ce ne sta soltanto uno ancora. Ancora non vuole morire questo. Ancora non vuole morire. Oh, spostati, spostati. Aspetta, aspetta. Adesso ce la facciamo. E abbiamo tolto anche lo scudo. Ormai non ce la fai più. Non ce la fai più, ormai. Non ce la fai più. Sei nell'angolo, sei nell'angolo. Ok. Bravo. Eh, te la vorrei dire volentieri, eh, sinceramente. Perché effettivamente stiamo facendo un percorso abbastanza lungo e ardo. Aspettami. Ah, di qua dobbiamo saltare. Aspetta, dai un po'. Vai. Ecco, non ce la fai a saltare. Ti ho visto un po' in difficoltà. Bingo. Ok, vediamo cosa c'è in tv. C'è Loki. Non abbiamo fermato un attacco. Abbiamo trovato la sua base. Sta parlando con qualcuno. Si sente niente? Il volume si sta alzando. Non mi importa le scuse. Mi avevi detto che l'avresti fatto funzionare. Pazienza. Una procedura così complessa le chiede pazienza. Io mi sprecherò. Tu cerca di fare in modo di rispettare il nostro racconto. Chi è quella testa da gigante? Quello è Modok. Super genio scientifico con un debole per il male. Proprio il tipo di intelletto sovraumano che odieresti vedere alleato con Loki. Rispetterò i nostri accordi, Modok. Ti rivelerò i segreti della tecnologia asgardiana una volta che avrai terminato il mio... Che cos'è? Allarme intruso! Gli Avengers sono qui! Mi occuperò io di quest'idiotto. Battene ora! Finisci il tuo lavoro! Perchè paletta! Attenzione squadra! Non vi fate ingannare dalle posizioni magiche di Dove. No, non ci facciamo ingannare. Cerchiamo soprattutto di... Ecco, magari di scansarlo. Se non è meglio colpirlo dalla distanza, eh. Chi è questo? Ma questa è la... Aia, aia! Spostati! Bravo, 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 bravo. Attenzione, attenzione! Oh, oh, oh! Ammazza che sperla! Oh, l'ho colpito, eh, l'ho colpito! Ah, era quello del loro gamma, attenzione! Vieni qua, vieni! Loki, non fare il cattivo! Ma ti aveva quasi ammazzato! Bravo, Loki, bravo! Fatti menare! Vieni qua, vieni, dove sta? Dove sta? Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, già è morto! No! Mostrami il rispetto che merito! Ma vorrei anche, ma... E io non è che mi faccio ingannare, però... Ah, scansati, scansati! Oh, che culo! Eh, bravo, beh... Vediamoci un po' di... Attenzione, spostati, spostati! Cazzo, lo sapete, eh! Voi dovete trovare il vero, Loki, se sperate... E lo merito! Eh, lo so, ma se non c'è manco il tempo di nuovo, per me. Ecco, tipo, per esempio, una cosa del genere non sarebbe male. Vabbè, anche di spalle. Allora, vediamo se un po' è questo. Penso che sia questo, no. Ah, che culo! Ancora! Oh, scansati, scansati! Bravo, Iron Man! Questo pure è veloce, eh! Ok, mi sa che è beccato lui, eh! Non è beccato... Ecco, ora così ci piace. Porca miseria, ragazzi! L'ho beccato in pienissimo! Mi sa che sei morto, Loki! Vai, vai, colpisci, 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 colpisci! È scomparso, è scomparso! E ho capito, non puoi dire sempre lo stesso, però. Ma adesso sono quattro, quindi fico. Manco come Rocky possiamo fare, possiamo beccare quello di me, eh! Ok. Attenzione, attenzione. Oh, spossati, spossati! Bravo! Attenzione! Che tiglio, eh! Che tiglio! Aspetta, aspetta, aspetta! Vai, vai, vai! Aspetta, che adesso ci carichiamo un po'. Cazzo, se ci fanno... Se ci date un attimo la fortità... Ok, aspetta. Se riesco a beccare almeno quest'altro... Ce la facciamo, eh! Ci metti troppo tempo per alzarti, Loki, eh! Cioè, Loki, Iron Man! Ok. Appena riesco a ammazzare a questo... Vai, vai! Aspetta, aspetta! Ok, lo scuolo gliel'abbiamo tolto! Chiavolo! No, 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 stiamo mollando, eh! Anche se io la puzza la sento! Ma non sono arrogante! In pratica, adesso... Anche se veramente Iron Man è una persona abbastanza arrogante! Attenzione, Iron Man! Ah, che palle! Quante ne esite, quante ne esite? Ah, uno in meno, uno in meno! Aspetta, aspetta! Che se ci riesco... Uh, aspetta, vi vedo un po' di energia qua! Ah, ecco qua! Ora sì che facciamo sul serio! Ancora tre, ancora tre, ancora tre! Alzati, Iron Man! Alzati! Porca di quella miseria! Mi sa che è lì, eh! Aspetta, 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 aspetta che stiamo quasi morendo! Se ci dessero un po' di energia non sarebbe male! Aspetta, aspetta! Ecco, un po', così almeno ci liberiamo... ...da questo... Attenzione! Oh, ciavolo, per poco! Abbiamo poca energia! Poca energia! Aspetta, aspetta! Aspetta un po', questo sta ancora sparando! No, 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 Iron Man! Non morì adesso! Eh, lo so, aspetta, però non voglio ammazzare a questo! Così, se ammazziamo a questo, almeno... ...riusciamo a capire chi dobbiamo abbecchiare! Aspetta, aspetta! Ecco qua! Ok, almeno è rimasto soltanto qui! Credo! Oh, ciavo! Cazzo! Ancora, ancora, ci sta ancora questo! Aspetta, aspetta, che riusciamo a beccarla a questo! Aspetta un po'! Oh, 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 aspetta! Mettiti da quest'altra parte! Eh, ma ti stai un pochettino o ti stai offendendo alla grande? Appena ce l'ho... C'ho la possibilità di schiartare... Attenzione! No, no, ho mollato! Anche ora! È Iron Man che ci mette 20 minuti! Aspetta che adesso ci becchiamo anche l'energia, eh! Ok! Ora sto più tranquillo! Sì, ora mi sento più tranquillo! Ah, ecco, aspetta che adesso ci becchiamo anche il caricamento qua! Così vediamo a che punto stiamo! Così possiamo utilizzare... Modok è sotto custodia, è tornato nella casa sicura! Ecco qua, dai! No, è inutile che colpisci, che adesso li colpisco io! Ah! Penso che sia morto adesso! No, dai, che cavolo! Vai, vai, colpisci adesso, vai! Veloce, 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 veloce! È un vero peccato! Almeno abbiamo Modok! Qui Captain Marvel! Modok è scappato! Qualsiasi cosa ho catturato è sparito! Un altro dei trucchi di Loki! Non ti dirò bugie, sarebbe potuto andare meglio! Per fortuna, Wasp ha scoperto qualcosa che può spiegare l'alleanza tra Loki e Modok! Modulatore di temperatura, misuratore di umidità... Sembra una specie di macchina atmosferica! Qualcosa mi dice che ha portato quelle cose sopra la città! È stato facile! Vabbè, questa sì che è sfiga! È stato un piacere, davvero! Devi trovare le macchine del tempo! Quelle che ho trovato io sono state sistemate in alto! Ok, dai, almeno siamo riusciti a becchiare Loki! Almeno lo abbiamo visto! Comunque, ragazzi, spero come sempre a questo video vi sia piaciuto! Non viagate sempre nei commentari, sempre di mettere mi piace! Ci vediamo al prossimo video e bye bye!